possiamo eseguire una diretta car tablet appena montato certamente sì ed è bellissimo ti ringrazio ecco qui lo spettacolo un monitor dedicato 8 pollici hd con recupero funzioni totali auto ecco 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 Grazie a tutti. 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 Eccolo qui, come vedete. Perfetto. Via voce bluetooth con streaming musicale, rubrica telefonica con ricerca veloce tramite lettere vocali alfabeto. Abbiamo attivato anche lo screen mirroring, quindi qualsiasi cosa che il cliente visualizza sul proprio smartphone la trasmettiamo direttamente sul nuovo car tablet. Adesso ve lo facciamo vedere, eccoci qua. E questa funzione si chiama screen mirroring. La possiamo fare sia via cavo che senza cavo, tutto in wifi. I nostri sistemi sono dotati anche di un equalizzatore. Ovviamente ripeto sempre che i nostri car tablet non hanno nulla a che vedere con quelli che trovate in commercio. facciamo fare un triplo controllo di qualità e chiediamo ai nostri fornitori di inserire componenti di altra qualità che possono essere Samsung o Sony. In questo caso il lettore cd-dvd è composto da tutta, diciamo, un marchio Sony. Esteticamente sembrano tutti uguali perché li vedete in foto, la differenza la notate quando facciamo le dirette e la velocità del processore e tutto quanto. Le prese USB dove le abbiamo messe, abbiamo due prese USB che possiamo gestire totalmente audio e video. Vi ringrazio, ai prossimi video e buona giornata.